Se nelle palline dell'albero di Natale sono custoditi re, regine, cavalli e torri, c'è qualcosa di nuovo e magico nell'atmosfera. A fianco ai regali e tra i rami della bete si intravedono infatti i tre pezzi degli scacchi che risalgono il volantino fino a svelare il titolo dell'evento, il torneo del panettone. Si è disputata a Cassino domenica scorsa la competizione scacchistica che ha visto darsi battaglia 24 giocatori provenienti da tutta la provincia di Frosinone. Studenti, liberi professionisti ed impiegati si sono affrontati per sette partite della durata di circa dieci minuti. A primeggiare è stato Sergio Procacci che con sei punti e mezzo stacca di un punto il secondo, suo padre Domenico Procacci. Il derby familiare si era infatti concluso con un pacifico pareggio. Dopo di loro terzo Mario Fossadaro da Sora. Sono molto contento di aver vinto il torneo del panettone con sei punti e mezzo su sette. È stato davvero un bel torneo. Non è stato facile fare sei punti perché i diversi candidati maestri erano tutti agguerritissimi. E anche la seconda nazionale con cui ho pareggiato ha dato battaglia sulla scacchiera. Seconda nazionale che era tra l'altro mio padre. Decisamente alto il livello del torneo, specialmente considerando che si è trattato di un evento amatoriale. Cinque candidati maestri e cinque categorie nazionali hanno costituito la testa del tabellone di partenza, divenendo un'impegnativa quanto divertente prova per gli altri 14 non classificati che hanno partecipato al torneo. Senza contare i tornei nel torneo, cioè quei premi messi in palio per gruppi. A seconda della forza dei giocatori, essi potevano infatti concorrere anche per un premio di fascia, qualora non fossero riusciti ad arrivare fra i primi tre. Nel gruppo che metteva insieme non classificati e terzi nazionali, ad esempio, è stato proprio Rocco Magnapera di Aquino a vincere il riconoscimento destinato a questa categoria. Mentre Umberto Carlacci di Strangola Galli ha primeggiato nella fascia da 1.600 a 1.799 e Gianmaria Gonzini di Formi è risultato il migliore dei candidati. Il torneo si è svolto nei locali delle nuove officine generali, nella cordiale atmosfera che i ragazzi delle officine hanno come sempre saputo creare. Ad organizzare la manifestazione è stata l'Accademia Scacchistica Ciociara che con questo torneo raggiunge il diciottesimo evento degli ultimi quattro anni di attività. La vittoria di un panettone per la semplice partecipazione rispecchia bene lo spirito di questo torneo che ha messo insieme quanto di meglio produce la provincia a livello scacchistico in un contesto ludico e distensivo che chi non conosce l'ambiente farà fatica a concepire.